Ciao a tutti amici di Cristiano Lui TV, benvenuti a un nuovo appuntamento con il mio canale YouTube, un appuntamento speciale e particolarmente gradito quello di quest'oggi perché parliamo di questa figuraccia euromondiale che hanno fatto i 12 club dissidenti, in particolare quelli che ancora non si sono ricreduti sulla Super League e in particolare dobbiamo dirlo i due organizzatori, i due menti, i due punti di riferimento di questo movimento che ha dell'incredibile e che è stato venduto al mondo del calcio come un movimento di benefattori, di salvatori del mondo del calcio, invece in realtà si tratta di club che non hanno saputo gestire in maniera assoluta le loro enormi risorse finanziarie, anche quelle messe a disposizione da linee creditizie che i comuni mortali si sognano e adesso vogliono correre ripari sulla pelle dello sport più bello del mondo. Infatti il mio titolo figuraccia si riferisce proprio a quello che è successo negli ultimi giorni e devo dire con una battuta che per quanto riguarda il calcio italiano che è quello che sta facendo più fatica di tutti a uscire da questo equivoco gigante della Super Lega, quello che ha collezionato le figure insieme al Real Madrid più grandi di tutti, se devo fare una battuta il presidente della Juventus Andrea Agnelli questa volta in Europa è riuscito a fare peggio della sua squadra. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube cliccando sul tasto alla destra del vostro schermo iscriviti e se volete addirittura attivare la campanella sarete avvisati ogni qualvolta verrà pubblicato un video. Devo dire che noi con il video che abbiamo realizzato, che trovate linkato in descrizione, intitolato Il Super Blef, realizzato proprio fuori dal Santiago Bernabeu, dove si sarebbe dovuto giocare la prima partita di questa famigerata Super League avevamo un po' preso d'anticipo tutti quanti definendo appunto questa Super League un Super Blef e eravamo convinti che non si sarebbe portato a termine questo processo e che sarebbe stato invece uno strumento utilizzato dai 12 club più ricchi d'Europa, più ricchi del calcio per forzare la mano nei confronti dell'UEFA e avere maggior voce in capitolo e soprattutto maggiori ricavi nella ripartizione dei diritti da sponsor e dei diritti televisivi. Sinceramente però nemmeno noi ci aspettavamo che il progetto franasse così rapidamente. È stato determinante l'intervento del primo ministro inglese Johnson che ha vietato in pratica o ha caldamente, vivamente consigliato ai club d'oltremanica di partecipare a questa Super League erano fondamentali perché 6 su 12 erano davvero metà della composizione di questa Super League e quindi pian piano si sono sfilati uno dopo l'altro anche sulla spinta dei tifosi inglesi che insomma da tanti anni riconosciamo tutti per la loro sportività, per la loro correttezza ma in questo caso sit-in di protesta, pullman bloccati insomma manifestazioni abbastanza strong su chi voleva rovinare il loro sogno. Devo dire che la Super Lega che si proponeva come ha detto anche Andrea Agnelli nell'intervista in cauta, in fausta, realizzata proprio pochi minuti prima della fuga da parte di club inglesi si proponeva di creare una maggior attrattiva per il calcio nelle nuove generazioni ha avuto in pochissime ore l'effetto opposto di unire tutti i tifosi d'Europa chi lo ha manifestato in maniera più chiara, chi invece in maniera più soft contro la Super Lega, quindi sicuramente ha ottenuto un effetto quello di unire tutti contro la Super Lega, tutti i tifosi e anche da questo punto di vista sicuramente gli esponenti dei governi che si sono espressi hanno tenuto conto della posizione della gente e quindi non a caso tutte le squadre inglesi in blocco sono uscite dalla Super Lega l'Atletico Madrid dalla Spagna ha fatto sapere di non essere convinto e Laporta ha invece coinvolto i socios dicendo che non dipende da lui la scelta il presidente del Barcellona ma dai componenti appunto della punta direttiva espressione dei socios del Barça dunque una fuga in grande stile alla quale si è unita anche l'Inter primo dei club italiani che ha comunicato di non essere più interessata alla Super League quindi di non assistere a un rimodulamento ma di non essere più interessata alla Super League questo è un altro segnale chiaro nei confronti di Agnelli e della Juventus Agnelli che invece ha trovato un socio fidatissimo, inseparabile che è stato disposto a addirittura fare un comunicato di benvenuto agli sponsor e mi riferisco naturalmente a Gazzidis del Milan in questa Super League davvero incomprensibile il comportamento di Gazzidis se non in virtù di questo patto di sangue del quale parla Andrea Agnelli sicuramente il Milan e Gazzidis hanno fatto un patto di sangue con la Juventus e qua ci sarebbe da chiedersi perché questa stretta alleanza perché questo bisogno assoluto disperato di avere i 350 milioni per ristanare il bilancio gli altri club in nome della storia del calcio e del futuro anche dell'effetto che ha avuto questa Super League hanno deciso di soprassedere e invece il Milan è andato avanti con il comunicato di Gazzidis che addirittura ha caldeggiato l'arrivo di nuovi sponsor per questa Super League e non contento il Milan è arrivato anche con il comunicato di Alexander Yukov il nuovo potenziale proprietario, speriamo di no, che ha dato il benvenuto alla Super League proprio mezz'ora prima che si sciogliesse o pochi minuti prima che si sciogliesse davvero un disastro su tutta la linea per Gazzidis e ancora una volta ci domandiamo che cosa aspetta l'amministratore delegato del Milan a dimettersi come lui, devo dire anche i rappresentanti dell'Inter e in particolar modo Andrea Agnelli che ha fatto una figuraccia europea, mondiale, colossale ciao a tutti da Cristiano Lui TV